Il mese di marzo di quest'anno nella scuola pubblica è un periodo dedicato ai trasferimenti e alla mobilità di tutto il personale. Il 22 febbraio scorso è stato firmato il nuovo contratto che regola la mobilità e chi è interessato a una diversa sede di lavoro per vari motivi deve presentare una domanda. Il termine per presentarlo è il 21 marzo di quest'anno. Ma chi è interessato a presentare domanda di mobilità? Giriamo questa domanda ad Americo Campanari della FLC CGL nazionale che è uno dei firmatari di questo nuovo contratto. Sono interessati alle procedure di mobilità i docenti, gli educatori, i direttori dei servizi, gli assistenti tecnici e amministrativi e i collaboratori scolastici che sono interessati a cambiare sede di servizio sia nella stessa che anche in altra provincia. Sono poi interessati tutti i neo immessi ruolo che dovranno avere una sede di titolarità. La mobilità riguarda anche gli ATA e i docenti che hanno perso la sede di servizio perché per più di tre anni hanno accettato contratti a tempo determinato. Poi riguarda chi è interessato a prestare servizio in una classe di concorso diversa oppure in un grado di scuola diversa oppure per quanto riguarda il personale ATA in un profilo diverso. Infine sono interessati alla mobilità i perdenti posto che a seguito di contrazione di organico nella propria scuola dovranno ottenere una nuova sede di servizio. I docenti della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado e della scuola secondaria di secondo grado dovranno obbligatoriamente presentare la domanda seguendo la procedura online. I docenti della scuola dell'infanzia, gli educatori e il personale ATA al contrario presenteranno la tradizionale domanda su carta. La procedura online sarà obbligatoria ad esempio anche per i docenti dell'infanzia ma solo nel caso in cui dovessero chiedere il passaggio di ruolo per la scuola primaria. Per quanto riguarda i perdenti posto che presenteranno la domanda in un secondo momento la presenteranno solo su carta. La procedura online prevede due fasi. In una prima fase il docente o il personale interessato si deve registrare al servizio istanze online sul sito del ministero. Sul nostro sito sono disponibili le istruzioni per farlo. In una seconda fase presenterà la domanda vera e propria via web entro il termine di scadenza previsto del 21 marzo 2011. Rispetto allo scorso anno la procedura è stata semplificata e resa più fruibile. Con la domanda via web sarà possibile allegare tutte le dichiarazioni. Non è più previsto rispetto allo scorso anno l'obbligo della compilazione online degli allegati da presentare. questi potranno essere preparati sul proprio pc e allegati al momento della compilazione vera e propria della domanda. Solo per le certificazioni mediche rimane l'obbligo di presentare la documentazione cartacea presso la scuola di servizio a cui viene inviata la domanda. Migliorata anche la procedura per la scelta delle preferenze, l'interessato una volta compilata la domanda in tutte le sue parti dovrà confermarla perché la stessa sia inviata alla scuola di servizio. L'interessato riceverà la notifica delle operazioni compiute. Entro la data di scadenza per la presentazione della domanda è sempre possibile modificare la domanda già inoltrata. Attenzione però, se si torna nuovamente nella procedura l'invio precedentemente fatto viene annullato e dunque la domanda va riconfermata. È disponibile anche una guida di istruzioni per l'uso sul sito di polis sia per i diretti interessati che per le scuole. Il nuovo contratto conferma sostanzialmente quello dell'anno precedente, compreso il sistema delle precedenze ed in particolare quelle riferite alla legge 104 che come noto ha subito delle modifiche da parte di una nuova legge. In sintesi per quanto riguarda le precedenze della legge 104, questa viene riconosciuta la precedenza al lavoratore con disabilità e con un grado di invalidità non inferiore ai due terzi e poi solo al lavoratore che assiste il coniuge, il figlio o il genitore con grave disabilità. Per quanto riguarda invece l'assistenza a parenti e affini, la precedenza nella scelta della sete è riconosciuta solo nella successiva mobilità annuale. Voglio ricordare che per fruire della precedenza per l'assistenza della legge 104 è obbligatorio indicare tra le preferenze l'intero comune di domicilio dell'assistito. Il contratto contiene alcune altre novità, la più importante sicuramente è la precedenza rientro nella scuola di ex titolarità da parte dei perdenti posto. Questo diritto è stato esteso dai vecchi sei anni a sette anni, il prossimo anno lo porteremo fino ad otto. Poi per effetto di una nuova legge, il cosiddetto collegato al lavoro, purtroppo in caso di contenzioso l'amministrazione non sarà più tenuta alla procedura di conciliazione per cui per rivendicare un diritto si dovrà andare direttamente dal giudice del lavoro. Poi i docenti specialisti della scuola primaria che transitano sul posto comune perché c'è stata contrazione sui posti di lingua straniera, se sono interessati potranno presentare domanda anche oltre i termini per cercare di ritornare sul posto di lingua straniera. In questo caso dovranno indicare obbligatoriamente solo la propria scuola. Inoltre i docenti del secondo grado che dovessero presentare domanda condizionata perché perdenti posto potranno anche scegliere preferenze per altre province e se indicate prima delle scuole della stessa provincia queste prevarranno rispetto ai movimenti della provincia. Inoltre dal punto di vista del punteggio sono state fatte delle precisazioni per quanto riguarda il dottorato di ricerca e per quanto riguarda la valutazione del servizio nelle scuole paritarie. Si è chiarito anche che una volta che si transita da posto di sostegno a posto comune o viceversa si perde il diritto alla continuità sia di scuola che nel comune. Inoltre è stato chiarito ancora meglio quando spetta il punteggio una tantum. Sarà obbligatorio presentare per avere questo punteggio anche un'autocertificazione sul possesso dei requisiti. Infine per quanto riguarda il personale ATA si è chiarito che si valuta anche il recente concorso riservato ai fini della mobilità professionale ma solo a condizione che sia stato espletato in un profilo superiore a quello di attuale appartenenza. È opportuno ricordare che i docenti neo-immessi ruolo non possono presentare domanda di trasferimento per altra provincia prima che siano trascorsi tre anni dalla data di emissione ruolo. Inoltre per poter presentare domanda di mobilità professionale cioè passaggi di cattedra e passaggi di ruolo occorre aver superato il periodo di prova. È possibile chiedere il passaggio di cattedra per tutte quelle classi di concorso per le quali si è in possesso del titolo di abilitazione. Inoltre si può chiedere anche il passaggio di ruolo cioè a un ruolo diverso, un grado di scuola diverso a condizione però che lo si faccia per un solo grado altrimenti vengono annullate tutte le domande presentate. Inoltre occorre tenere presente che qualora si presentano tutte le domande il passaggio di ruolo prevale sia sul trasferimento che sul passaggio di cattedra. Per ciascuna tipologia di mobilità occorre utilizzare il modulo specifico. Quindi a secondo se si tratta di trasferimento, passaggio di cattedra o passaggio di ruolo occorre utilizzare il modulo previsto. Al contrario è sufficiente documentare una sola di queste domande e fare riferimento a questa documentazione per tutte le altre. Innanzitutto le scuole dovranno formulare la graduatoria interna di tutto il personale docente ATA entro i 15 giorni successivi alla scadenza e dunque entro il 5 aprile del 2011 e questa graduatoria verrà utilizzata per individuare eventuali perdenti posto che saranno riammesse a partecipare all'operazione di mobilità. Una volta che tutte le domande sono state presentate anche per i perdenti posto, a questo punto il sistema esamina le domande di mobilità. Come le esamina? Prima vengono esaminate le domande di ciascuna provincia, al termine delle domande nell'ambito di ciascuna provincia il sistema accantona la metà dei posti disponibili per le future emissioni ruolo. Sulla metà dei posti che rimangono disponibili si esamineranno tutte le domande di mobilità tra province diverse e le domande di mobilità professionale, cioè passaggi di cattedra e di ruolo. Tutta la normativa che regola la mobilità nella scuola, cioè il contratto e l'ordinanza ministeriale che lo applica e tutta la modulistica necessaria per fare domanda, è reperibile sul sito www.flcgl.it. Chi avesse bisogno di una consulenza personalizzata, quindi sul proprio caso, può rivolgersi direttamente alle sedi territoriali della FLC CGL.